Salve ragazzi qui è Cianca Iparra dopo aver aperto la busta del mitico Pokémon Shiny 98 dove mi ha dato Reshiram Ultra Mi raccomando andatevi a iscrivervi al suo canale Ho quest'altra busta veramente gigante, guardate un po' Che adesso cercherò di aprire con le mani Con le mani Cercherò di aprirla con le mani È gigante veramente, non so cosa c'è dentro, penso che è un FCBM senza dubbio Credo che è di Tundurus Pokémaster perché doveva arrivarmene meno da lui Oh mio Dio Wow, oddio Guardate in quante bustine ci manda le carte Vabbè, beh, wow, grande Sei un grande, ti stimo già da qui Allora qua ci manda le extra Extra, what? Ti scrivo queste due righe LOL Ok, adesso devo capire come... Eh, tutto scocciato, mi sa che dovrò rompere Apriti Oh no, oh mio Dio Come lo apro? Come... Ah, l'ho dovuto rompere Vabbè, ti scrivo queste due righe Aspettate perché rischio di far saltare in aria la telecamera Guarda, ce la sto facendo Oddio ragazzi, devo prendere la forbice perché non ce la faccio Ok, scusate questo breve inconveniente Oddio, mi stavo sfasciando la cassa toracica Ah, come minimo Ai 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 Allora, uno vecchio, sì sì, molto Adesso penso che possiamo aprirlo bene Oddio, non so come aprirlo Cioè, mi sa che dovrò sfasciarlo tutto Mi dispiace Cioè, ma hai messo troppo scotch Cioè, non so come aprirlo Eh, niente, non posso aprirlo Mi dispiace, forse da qua Dobbiamo Mio Dio No, niente, non ce la faccio, mi sa Cioè, un'ora per aprire questo coso Mi sa che In caso me lo leggerò a parte Solo che volevo vedere di chi era l'FCBM Mi devo aprirlo Mi stai facendo sudare sette camicie Mio Dio Oh, forse ce l'ho fatta Non so in che condizioni sarà il fogliettino Ma forse ce l'ho fatta Scusate ragazzi, ma Quando capitano queste cose Oh, vabbè, questo è l'involucro di fuori Spero Ah, ah, ecco, era l'involucro di fuori Quindi tipo potevo sfasciare tutto E non me ne sono accorto Oh, oh, quanto c'è scritto Oh, 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 oddio Allora Allora Ciao Charm Spero che questo FCBM ti arrivi Mi è arrivato già Mi avete fatto ridere un sacco Due Ducky Blast nel vostro Ah, sì Grazie nel vostro video Ancora rido quando ci penso Viva Gigli Paffie Eh, le carte non sono un gran che Ma spero ti piacciono Sarei davvero molto felice Se facessimo un TCBM insieme Oh, un'ultima cosa Se non ti dispiace Eh, cioè non Se non ti dispiace Le se lo cose sei Non lo so Iscriviti al mio canale per favore Certo, mi iscriverò subito Senza dubbio Oh, e A 50 iscritti ci sarà uno speciale Ok, quindi ragazzi andatevi a iscrivervi al suo canale Che a 50 iscritti ci sarà uno speciale PS Le bustine sono come appena comprate Ma senza Senza codici Non fa niente, guarda Perché anche io come te li uso Scusa tanto Tranquillo, guarda Trick non effettivato No Vabbè, PPS Oddio, voti PPS PPS Spero che Spero tu capisca la mia scrittura Scrivo malissimo Non hai mai visto la mia Per fortuna PPS L'extra sicuramente li hai già Ma sicuramente ti piacerà Ok PPPPS Dio Sto creando un set di carte Appena lo finisco pubblico il video Ok PPPPPPS Ho fatto un video da te prima Sullo speciale Andrò subito a vederlo Oddio, gira PPPPS Troppo PPS Appresso Tondurus Pokémaster PPPPPPS Mi sono ricordato un'altra cosa Te la dico In un mp, ok? Ok Ciao Grazie Ciao Viva Jigglypuff Forever Yeah Manca Charmander Ok Grandissimo Tondurus Pokémaster Mi raccomando Iscrivetevi al suo canale In descrizione E soprattutto Iscrivetevi al suo canale Che appunto A 50 iscritti Si farà uno speciale Vabbè Ci sono tutte queste bustine Già aperte Con le carte dentro Andiamo prima con gli extra Dai Vediamo un po' Eh sì Da dove? Ah scotch Oh mia Dio La scotch La scotch L'odio Mi sa che dovrò rompere La bustina Eh sì Devo romperla Mi dispiace Sono sempre con le mie Forbici fashion Molto Spero di non rompere Però No Ok Eh no perché era impossibile Extra Jigglypuff 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 Un altro Jigglypuff Wigglytuff Reverse Grande 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 Ti stimo Ti stimo Ti stimo Mi sono fatto male Vabbè Grande Subito due Jigglypuff Ok andiamo In ordine Questa bustina Di Q-Ram Allora non ho capito Se devo fare il trick Oppure no Non ho capito Vabbè Vabbè lo facciamo Dai Uno due tre Uno due Non si sa mai Allora abbiamo Litwick Shellmet Sì mi sa che dovevo farlo Timbur Dwebble Dynamo Durant Svadlum Sì dovevo farlo Lampent Gollet Reverse Bello E Volcarona Raro Bello Bello Ok andiamo avanti Destini Futuri Future Destinis Yeah Destinos Futuros Wow Cosa c'entra Un due tre Uno due Allora Growlight Meo Panzeige Hippopotas Ferrosite Luxio Energia Prisma Kirlia Bello Persian Raro Verso Grazie E Lux Rayolo Wow Grazie Grazie Mille Meno male che avevi detto che non erano un gran che Wow Alla faccia del Non erano un gran che Che andiamo con Due Forze Di Due Forze mi manca tipo un Kling Clang Una cosa del genere E alcune rare Speriamo che me le messe Se me le messe C'è sei tipo da stimare Uh piove Piove Ok vabbè non me ne frega niente Allora abbiamo Rufflet Darumaka Kling Piove anche di brutto Non so se senti il rumore Bascolin Siguado Go Torita Komor Sigdiff Boldor Reverse E Sosbuck Raro Bello bello Grazie Andiamo con Questa Di Reshiram Si Ok Allora 1 2 3 1 2 Ho capito che devo fare Il trick Allora abbiamo Snivy Tepig Oshawot Blitzel Wubat Wachog Yuwot Bellissimo Tranquil Mincino Reverse Che erano belle le reverse così Oddio Samurottolo Mi mancava Ti stimo Mi mancava Questo Samurottolo Giuro Grazie Andiamo Esploratori delle Tenebre Grazie Grazie Io Samurottolo Un Pokémon Che veramente Mi piace tantissimo Quindi Grazie 1 2 3 1 2 Ok Allora Abbiamo Tenamo Devo fare un po' veloce L'Arbesta Bubat Plasle Eevee Scurartigli Joltion Ambrantica Dierodactyl Ducklet Reverse E Blitzel Olo Oh mio Dio Ragazzi Mi mancava pure Mi mancava pure Grazie mille Ci manda Tutte queste carte Poi 3 Olo Di cui Samurott E Blitzel Mi mancavano Grazie 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 Sembrano 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 appena Nuove Fanno ancora L'odore Di quando sono comprate Le carte Grazie Veramente Ottimo utente Ragazzi Link in descrizione Mi raccomando Iscrivetevi Che appunto 50 iscritti Farà uno speciale Quindi dai Iscrivetevi Ce la potete fare Veramente Grazie Vabbè Questo è tutto ragazzi Alla prossima Da Ciao Ciao Mi raccomando Iscrivetevi Al canale Di Tundurus Pokémaster E scusate Per la fretta Ciao ciao Ciao